Quando si esegue un brano di musica classica, come un'opera o una sinfonia, ci sono molte persone che suonano o cantano la propria parte. Ma il bello o la parte meravigliosa sta nell'insieme, cioè non solo nelle singole parti. Ci vuole quindi almeno un musicista che abbia una visione globale del brano e che conosca molto bene il ruolo di ognuno. Questo può farlo chi ha studiato la partitura, che è come un libro da leggere, su cui è portata la musica suonata da tutti gli esecutori. In questo modo può suggerire ai musicisti come suonare insieme. Una delle cose più importanti è che ogni musicista, compreso il direttore, ascolti e guardi gli altri. Cioè suonare insieme porta sempre ad un arricchimento interiore. E quando facciamo musica siamo consapevoli di quanto siamo fortunati a poter vivere un'esperienza che porta insieme emozioni dalla commozione al sorriso. Grazie. 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 Grazie.